Belli, Royce, buona la chiusura, Kappa, con la gara di oggi Stefano questo calciatore ottiene la presenza numero 250 con questo club, ha trovato l'ambiente ideale per il suo tipo di gioco e questo gli ha permesso di diventare un punto fermo della formazione si avvicina all'area, Kappa, fanno girare molto bene, attenzione tutto solo, hanno concluso alla grande un'ottima azione corale, un'impressionante serie di scambi, i difensori sono rimasti praticamente fermi a guardare, un gol facile certo